Ok, visto che fino ad oggi l'asteroide previsto per ieri ci ha risparmiato, in qualche modo provo a fare i compiti, cioè a farli come posso naturalmente. Dove hai trovato la bellezza in questo periodo? L'ho trovata nell'osservazione, cioè nel proporre alla mia attenzione di soffermarsi più a lungo, cioè di non consumare così velocemente le informazioni come faccio di solito. Non posso certo dire di aver imparato la concentrazione che purtroppo non mi è mai appartenuta, ma mi sono scoperta un pochino più accurata, anche nei pensieri che sono sempre in sovrapposizione, ma è un pochino meglio, via. La prima cosa che farò, la prima cosa che farò sarà fare una camminata, guarda una camminata lunga fino a che non sarò stanca morta e mi dovrò fermare per recuperare e non la voglio fare in un posto qualunque questa camminata, la voglio fare a Roma e la voglio fare a Roma di sera, perché Roma di sera e di notte è meravigliosa e perché si riescono a sentire i profumi della primavera. Per quello che riguarda la canzone, certo non posso cantare, come lo sai, e quindi la canzone che ho scelto è una canzone che mi fa pensare alla libertà, è Aquarius.